Musica 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 Prego Signor direttore Come possiamo parlare? Certo signorine Entrate, accomodateli Dite che c'è? Senta, è possibile che domani Ce ne andiamo due ore prima? Che? Due? Due ore prima Beh, se proprio si tratta di una cosa importante Per noi, molto Vogliamo andare alla Scala A comprare i diretti per l'opera Ma anche a voi. Spiegatemi una cosa, a voi questi spettacoli piacciono così tanto? Guardi, signor direttore, e noi siamo quasi delle maniache, quest'anno abbiamo intenzione di non perdere nemmeno uno spettacolo. Io sinceramente lo trovo noiosi. Ma scusi, lei ha mai provato ad ascoltare un'opera intera? Ma com'è no? Ogni volta che io guardo lo sport in tv mia moglie ascolta l'opera, appunto per darmi i nervi, o forse per farmi rilassare. Ma non penso. Non lo so. Devo ammettere comunque che ci sono pezzi che mi piacciono. Sentite, signorine, mi avete convinto. Comprate due biglietti per me e per mia moglie. Che bella cosa la giornata è sole L'aria serena dopo la tempesta Quell'aria fresca pare già la festa Che bella cosa la giornata è sole 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 Che bella cosa la giornata è colore Grazie a tutti.